Ha una favorita che senza quel tocco da parte dell'allenatore avrebbe probabilmente vinto il titolo mondiale. Mauro Principe ancora alla cavallo. Mauro Devienzo totalmente a conoscenza di questa possibilità di penalizzazione, quindi si avvicina solo per dare tranquillità alla sua ginnasta, senza toccarla. Molto bene intanto questo lavoro su una groppa, la classica in avanti, spostamento con i mulinelli sulle tre zone del cavallo, poi indietro, 2D in successione, salita in verticale e rotazione. È un po' squadrato, il rallentatore è più evidente questo errore, ricordiamo che bisogna stare con un atteggiamento lungo dalle spalle fino ai piedi con una linea che non deve essere interrotta all'altezza delle anche. Cerchiamo anche di capire Carmine...